Daniele, sono il segretario E' un po' il segretario Quello così, pronto, ciao Enrico All'è otto un quarto nel mattino Sì, sì, ciao, sono il magazzini Coglioni Oh, pappi, com'è sto ritmo? Vai Ti giuro che quanto Oh, vai, po' sta male Ma adesso, non so cosa fare, chiamo a te Antonio, Antonio Senta, si chiama Chi cazzo dì? Lo sai quando c'era ballerino? Lo sai quando c'era ballerino? Lo sai quando c'era ballerino?